Il mercato del Verona Il club giallo-blu si appresta a vivere un'estate molto calda, con tanti suoi gioielli richiesti dai top club italiani e non solo, a partire dal bomber no slang che potrebbe seguire Mr. Baroni alla Lazio. A centro campo, invece, si potrebbe scatenare un'asta per Suslov, finito nel mirino di Atalanta, Bologna e Roma, attualmente impegnato a 2024 euro con la Slovacchia. Normal quindi che il Verona si stia guardando intorno alla ricerca di un sostituto e a tal proposito, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato. It, una delle piste seguite dai Veneti porta in Turchia. Nel mirino c'è Cem Turkmen, mediano classe 2002 nel giro della Nazionale Turca Under 21, dotato di passaporto comunitario essendo nato in Germania. Centrocampista moderno e completo, in grado di fare al meglio sia la fase difensiva che quella offensiva, ha un contratto con l'Ancara Gugio fino al 2026. Il suo cartellino viene valutato circa 1,5 milioni di euro.